Con noi questa sera Cosimo Sinisi, allenatore della Nuova Andria. La Nuova Andria che domenica scorsa ha conquistato un risultato positivo contro il Santo Onofre, un risultato che era da tempo cercato, vista comunque l'assenza di risultati positivi dal 14 dicembre. Addirittura non vinceva in casa fuori casa da marzo 2006, quindi buon risultato. Speriamo adesso di partire con il piede giusto. Certo, domenica scorsa finalmente abbiamo ottenuto il risultato che tutti ci auguravamo sin da altre giornate. Abbiamo giocato bene, non meglio delle altre volte, però abbiamo saputo capitalizzare bene quello che è stato il frutto dell'unico gol segnato, anche se ne avevamo fatto un altro poco prima e l'arbitro non capisco perché non aveva convalidato. Però siamo riusciti a portare a casa una bella vittoria, non priva di altre insidie. Verso la fine abbiamo avuto un'espulsione circa un quarto d'ora dalla fine di un nostro giocatore, quindi abbiamo dovuto difendere veramente con i denti, sino alla fine, anche in dieci uomini, il risultato positivo. Ecco mister, possiamo vedere un'Andrea dai due volti. Un'Andrea che anche domenica scorsa lo ha dimostrato, un ottimo secondo tempo rispetto al primo tempo un po', possiamo dire così così. Il secondo tempo è stato giocato in maniera ottimale, il culmine, il gol di Lorusso. Beh sì, sostanzialmente può essere vero, anche se domenica scorsa pure il primo tempo abbiamo avuto delle ottime occasioni e per veramente un'inerzia non siamo riusciti a concretizzarle. È una nostra prerogativa quella di uscire nella seconda parte della gara, vuoi perché nella prima ci applichiamo più per lo studio dell'avversario, vuoi perché comunque noi fatichiamo a entrare in partita perché giochiamo poco sul terreno di gioco, quindi diciamo che utilizziamo la prima fase della gara quasi per abituarci a quello che è il terreno di gioco, visto che è il nostro, ce l'abbiamo solo così qua da guardare, lo vediamo solo come spettatori e noi invece ci alleniamo dietro sulla pista e non abbiamo proprio confidenza con l'attrezzo campo. Ecco, domenica prossima si riparte, speriamo di continuare con il piede giusto. Qual è la situazione attuale, la situazione fisica degli uomini a disposizione? Allora, domenica prossima la situazione è ottima, nel senso che a parte la defezione dell'unico giocatore espuso domenica scorsa abbiamo tutti disponibili e in più questa settimana abbiamo fatto un grosso acquisto, acquisto nel senso che finalmente rintegramo in rosa il Leo Di Canio che manca dal terreno di gioco da tre anni per motivi diciamo che non è stato disponibile per questo periodo e comunque costituisce per noi un grosso rinforzo. Ancora prima di domenica però abbiamo un impegno infrasettimanale, quello di giovedì con il San Giovanni Rotondo, un quarto di finale della Coppa Puglia dove la società quest'anno ha puntato ad andare il più avanti possibile e adesso che siamo qui quasi addirittura d'arrivo ci terremmo a qualificarci. Insomma, stiamo bene, siamo in ottima forma, dobbiamo soltanto cercare di dare un po' di continuità a quelli che sono gli sforzi fisici che facciamo durante la settimana e dobbiamo augurarci un po' più di buona sorte, molte volte perché arriviamo veramente sempre vicini e poi sbagliamo magari l'ultimo passaggio, magari sbagliamo calci di rigore, calci piazzati molto semplici, molto facili e per poche cuposche veramente non riusciamo a concretizzare e a fare ottimi risultati. Ecco, grazie a Mr. Sinisi da TSC Sport è tutto, buona serata Mr. Grazie a voi.